Oggi parleremo di una pianta bellissima, una pianta solare, una pianta estiva che fiorisce in maggio, da maggio a giugno e tra l'altro il fatto che sia già un po' sfiorita, come vedete adesso, ci fa capire anche che le stagioni sono anticipate, che il clima è cambiato. La ginestra dei carbonai, pianta molto importante per l'ipotensione, frequente d'estate, per la stanchezza e comunque per aiutare il cuore. Siamo in un ambiente bellissimo, una valle incantata in cui si sentono solo il rumore degli uccellini e qui non c'è veramente nulla, non esiste, c'è natura allo stato pure. Io ricordavo che c'era un punto dove ogni anno ricordavo questa pianta aggrappata su questa roccia, questa ginestra, questa ginestra dai fiori bellissime a questi fiori gialli che ricorda veramente l'oro. Tanto che Plinio il Vecchio, il famoso naturalista, diceva che dalle ceneri della ginestra si può ricavare l'oro, cosa che penso non sia vera né vi induco a farlo, perché altrimenti distruggete questa pianta alla ricerca dell'oro. Però è una pianta molto importante anche dal punto di vista storico, sapete che le piante non dobbiamo vederle solo sul piano medico, dobbiamo vederle sul piano storico. Pensate che Enrico II d'Inghilterra, che era della famiglia di Valois, era del ceppo dei plantagenetti. Cosa vuol dire plantagenetti? Plantagenetti vuol dire plantagenista, quindi una serie di re francesi e poi inglesi aveva nel loro simbolo una ginestra, questa meravigliosa pianta dorata, quindi pianta veramente molto importante. Poi si chiama dei carbonai perché è una pianta particolare che brucia poco, quindi i carbonai che quando prendevano la legna e la facevano bruciare lentamente per fare il carbone, mettevano sopra questa ginestra che quindi rallentava il fuoco, ecco perché si chiama la pianta dei carbonai, ginestra dei carbonai. Questa pianta in realtà è una pianta dalle stupende proprietà terapeutiche. Se noi prendiamo in realtà e guardiamo i libri di oggi dicono che è una pianta tossica, pianta meriosissima, non usatele nelle fiori, nelle foglie. In realtà queste sono sciocchezze, ogni pianta è preziosa quando si usa nella maniera giusta e quindi la maniera giusta di usarla è raccogliere i fiori, raccogliere le foglie, seccarli e poi si possono fare delle tisane, magari unendole con altre piante, con il rosmarino e così via, per tirar su la pressione. Quindi è una pianta che dà forza al cuore, il cuore batte in maniera più potente, quindi naturalmente può anche alzare la pressione, ma nello stesso tempo nel cuore non ci saranno più le aritmie, ecco allunga il periodo refrattario, quindi tante persone che hanno la tachicardia e nella tachicardia si inseriscono la tachia e aritmia, questa è una pianta specifica. Un tempo, se adesso guardiamo anche i giornali medici degli anni 50 e 60, assieme alla digitalis, alla donis vernalis, che sono altre due piante importantissime per il cuore, c'è la ginestra, che si usava anche una volta intervallandola con la digitale. Mi ricordo io in ospedale proprio negli anni 70 ordinavo alla suora del reparto le cartine di digitale, dell'insufficienza cardiaca, che è la causa più frequente di morte, il cuore non batte più e si forma l'idea hormonale, si curava con la digitale, la digitale per la quale poi dopo un po' di tempo può creare dei problemi, perché può aumentare per esempio alcuni problemi di tipo aritmia e così via, quindi si intercalava la digitale con la ginestra, con i fiori di ginestra, quindi questa pianta dobbiamo vederla interessante, usata nel modo giusto, come dicevo, si fa una tisana e si usa nella ipotensione, ipotensione specialmente accompagnata a tachicardia e aritmia. Poi è anche bello ricordare quello che ci dice la letteratura, voi vedete questa pianta che proprio è qui sul dirupo ed è solo qui, ecco io conosco solo questa ginestra in questa grande zona, io conosco ovunque dove crescono le piante sui miei monti e allora mi piace anche ricordarvi questa bellissima brano di una poesia di Leopardi che ci dice tante cose della ginestra, qui sull'arida schiena del formidabile monte, terminator vesevo, quindi questo sul Vesuvio, questo aride Vesuvio dove c'è la lava e non ci sono altre piante perché dice la quale null'altro allegra, arbor né fiore, non cresce niente sul Vesuvio dove c'è stata la lava, cresce solo tu, i tuoi cespi solidari intorno spargi, odorata ginestra, quindi qui c'è tutto perché ci dice che la ginestra cresce nei punti aridi, sulle rocce dove c'è la lava vulcanica, cresce dove non crescono le altre piante, è una pianta quindi forte, cos'è che contiene la ginestra? Contiene un alcaloide che si chiama sparteina, già il nome ci dice la forza e quindi la forza che dà il cuore, un cuore che deve combattere, che deve lottare, deve essere forte, deve fare delle forti contrazioni, allora ecco la sparteina, questo alcaloide con tutto il contenuto di questa pianta. Pianta poi che ha un odore buonissimo, veramente meraviglioso e quindi pianta veramente interessante, quindi è della famiglia delle fabacee, quella dell'astragolo, di tante altre piante che noi conosciamo e sono veramente importantissime, una delle più importanti famiglie di piante medicinali, è una pianta da conoscere, non si trova facilmente, si trova proprio nei diruppi praticamente e fa queste bellissime fioriture dorate che ricordano tantissimo il colore del sole, il colore dell'oro e ricordiamoci che il sole e l'oro sono collegati col cuore, ecco allora la teoria delle signature, pianta del cuore, pianta per rinforzare il cuore, come sono anche le dedizioni di oro e così via, quindi questo è molto interessante. Ti ricordo che se vuoi approfondire le tematiche meravigliose a medicina naturale, per approfondire queste tematiche, per seguire tutto quello che faccio io nell'approfondimento di ognuna di queste cose, è utile che tu ti iscrivi alla Masterclass che sto tenendo già dall'inizio dell'anno. Vai sul sito masterclass.divobianchi.it e ti puoi prenotare, le iscrizioni attualmente sono chiuse, che abbiamo tantissime richieste e la cosa va seguita molto bene, sarà riaperta per un brevissimo periodo, iscriviti se vuoi veramente essere al corrente di tutto ciò che è medicina naturale, che comprende una diretta settimanale specifica, che contiene dei quaderni per le patologie, che contiene dei podcast, che contiene degli approfondimenti veramente molto molto importanti. Grazie di avermi seguito, arrivederci al prossimo video.